Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. La ricostruzione privata a Teramo è più spedita che nel resto del cratere abruzzese. Nel capoluogo la burocrazia consente di andare più veloce, ci ha spiegato il direttore del USR Rivera, secondo cui l'ordinanza 126 di Legnini ha dato una risposta esauriente all'emergenza caro materiali nell'edilizia. Ascoltiamo. Oltre 102 milioni di euro erogati finora a Teramo per la ricostruzione privata post-sisma del 2016. Si tratta del 42,2% del totale concesso all'interno del cratere abruzzese. È quanto emerge dal report mensile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ogni mese dà il Via Libera circa 75 cantieri per un valore economico di quasi 20 milioni. Teramo si conferma un traino alla ricostruzione, ha dichiarato il sindaco d'Alberto, commentando i numeri datati al 31 maggio scorso. A Teramo, infatti, è stato completato il 75% delle pratiche presentate. La percentuale media del resto del cratere si attesta intorno al 67,3%. La differenza è principalmente per la burocrazia, ci spiega il direttore Rivera. Su Teramo c'è in questo momento un'accelerazione legata al fatto che, essendo una città, il più delle volte ha conformità urbanistiche ed edilizie dei propri edifici. Mentre nei piccoli paesi spesso ci troviamo di fronte a dei piccoli abusi ed edilizie e per poter finalizzare le pratiche è necessario prima sanare gli abusi e quindi procedere attraverso le regole, le procedure, che alle volte sono anche un po' complicate. Quindi questa differenza sta proprio in questo, sta nella maggiore conformità urbanistica ed edilizia, la minor presenza di abusi all'interno della città a capoluogo, qual è tutto Teramo. L'ufficio è in grado di erogare i contributi di ricostruzione, dice il direttore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Col PNRR dovranno arrivare nel cratere 1 miliardo e 780 milioni, di cui 1 miliardo e 70 milioni destinati alle opere pubbliche e gli altri 700 milioni per le sovvenzioni alle imprese. I bandi partiranno entro la fine di giugno e andranno da 200 mila euro a oltre 20 milioni. Il settore dell'edilizia è però da un paio d'anni alle prese con il costante aumento dei prezzi delle materie prime, che rischia di paralizzare i cantieri. Il commissario Lignini, tramite un'ordinanza in vigore dal 24 maggio, ha ridefinito il preziario e ha aumentato il tetto massimo dei contributi erogabili. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, le parole di Rivera. La soddisfazione è unanime, quindi questo 20% che è stato dato per il residenziale, il 25% in più che è stato dato per il produttivo, ad oggi è di piena soddisfazione. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, questo 25% di cui parlavamo sono i cantieri incagliati anche per il caro materiale. Quindi in questi ultimi giorni, i propri ultimissimi giorni della settimana a questa parte, stiamo riscontrando molte integrazioni documentali legate proprio anche a questo caso. Quindi sono sicuro che i prossimi mesi saranno ulteriori soddisfazioni. C'è l'altra scadenza che era imminente, era prevista per il 30 giugno, è stata prorogata, posticipata al 15 ottobre per la presentazione del danno grave con assistenza a cassa, al 31 dicembre per tutte le altre fatte specie. Lì cercheremo di farci trovare pronti. Una nuova lettera firmata a strada dei parchi, con cui la società ribadisce di voler lasciare anticipatamente la gestione delle A24 e A25. La situazione infatti a partire dalla mancata approvazione del PEFE ancora in Stalo. Ascoltiamo il servizio. Il gruppo Toto non vuole più le A24 e A25. Con una nuova lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture, strada dei parchi ribadisce l'assoluta volontà di recedere dalla concessione. La seconda emissiva arriva a due settimane di distanza dalla prima e il contenuto è sostanzialmente immutato. La società per azioni intende anticipare la rescissione del contratto, la cui naturale scadenza è prevista per il 2030. Questo perché la situazione è in stallo ormai da anni e nessuno sembra intenzionato a sbloccarla. Il piano economico finanziario, atteso da quasi un decennio, non è mai stato approvato, benché il Consiglio di Stato in questo tempo abbia nominato tre commissari ad hoc. L'ultima bozza, quella presentata dal commissario fiorentino, prevedeva graduali aumenti del costo dei pedaggi fino al 375% ed è stata bocciata dal CIPES. La mancanza del PEF rimanda a tutta una serie di lavori, a partire dalla messa in sicurezza delle infrastrutture. Quella antisismica, le A24 e le A25 sono ritenute arterie strategiche dal sisma del 2009, ma anche quella per l'attraversamento degli animali selvatici, di primaria importanza per delle autostrade che percorrono dei parchi nazionali. E intanto in quattro procure sono in corso delle inchieste per la mancata manutenzione dei viadotti. Strada dei parchi, quindi, con questa seconda lettera, aumenta le pressioni sul governo. E non è detto che la rinuncia sia solo un blef. Infatti la società del gruppo Toto, in caso di rescissione anticipata, avrebbe diritto a un indennizzo. Indennizzo quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro. E la somma di varie voci, tra cui mancata remunerazione degli investimenti, mancati incrementi tariffari, mancati introiti fino al 2030 e altro. Sullo sfondo, una condizione economica già di per sé poco idilliaca, tra costi di manutenzione e oneri covid non rimborsati, il Ministero è in debito, con strada dei parchi, per oltre 300 milioni, potrebbero essere 430 entro fine anno. Al contempo, strada dei parchi, secondo la Corte dei Conti, è a sua volta in debito con Anas per circa 75 milioni. I sindaci intanto restano sul piede di guerra, in attesa dell'aumento del costo di percorrenza del 34,5%, già più volte rimandato. In un'audizione alla Camera, il Ministro Giovannini ha ribadito la volontà che l'attuale blocco delle tariffe, previsto al 30 giugno, venga prorogato al 31 dicembre. Una dichiarazione che, seppur dovesse essere supportata dai fatti, non soddisfa i primi cittadini, in quanto non si tratterebbe di una soluzione definitiva, ma di tenere sospesa ancora un po' questa spada di Damocle. Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha finanziato con oltre 6 milioni di euro il progetto Demetra alla Facoltà di Veterinaria dell'Università di Teramo. Il Dipartimento Teramano è stato infatti riconosciuto come eccellenza nazionale e attuerà una filiera animale sostenibile. Vediamo. Il progetto Demetra per una filiera animale sostenibile decolla, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con 6 milioni e 500 mila euro, sarà attuato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, facoltà risultata al secondo posto in Italia tra i dieci dipartimenti ammessi al finanziamento. Demetra, acronimo di Distribuzione delle Risorse Alimentari attraverso un metodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietà sociale sostenibile, sarà coordinato dal professor Fulvio Marsilio, ordinario di malattie infettive degli animali. In che cosa consiste concretamente questo progetto? Si è occupato proprio di tracciare alcune linee guida proprio nell'ambito dell'allevamento sostenibile. Si parla tanto di produzioni sostenibili, di allevamento sostenibile. Ecco, noi abbiamo cercato di mettere in pratica quelli che sono gli obiettivi che l'ONU ha dato negli ultimi anni e riguardavano proprio lo sviluppo sostenibile da qui al 2035. Siamo stati finanziati con 6 milioni e 500 mila euro, quindi si tratta di un finanziamento importante che ci ha permesso non solo di recutare del nuovo personale strutturato, ma anche di creare, per esempio, nuove borse di studio di dottorato, per esempio fare assegni di ricerca, riuscire ad organizzare una nuova iniziativa didattica che è una magistrale proprio nell'allevamento sostenibile degli animali. Insomma, abbiamo cercato di dare il nostro contributo in questo senso. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo è tra i 180 dipartimenti di eccellenza scelti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per il quinquennio 2018-2022. Ci siamo arrivati intanto con l'impegno di tutti i colleghi e soprattutto pensando a tre argomenti a mio avviso straordinari quali l'ambiente, l'antimicrobico, l'antibiotico resistenza e le biodiversità. Tre argomenti con tanti obiettivi che hanno fatto sì che il nostro progetto fosse praticamente finanziato. A proposito di ambiente, voi curate gli animali ma questi cinghiali che girano a Roma indisturbati lei che consiglio darebbe a questa città? Beh, forse sono stati fatti in generale degli errori qualche anno fa quando sono stati introdotti dei soggetti dai paesi dell'Est perché in realtà il nostro cinghiale non è stato mai un soggetto prolifico mentre i soggetti introdotti allora per attività venatorie sono stati molto molto prolifici. Secondo me la volontà di mettersi a tavolino di studiare la situazione fra persone competenti e la soluzione si trova. C'è poi un'ultima novità che riguarda l'Ateneo Terramano il rettore Mastrocola ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando per la riqualificazione dell'ex manicomio un progetto da 32 milioni di euro anche questo in fase di decollo. Negli ultimi anni è stata continua la chiusura di sportelli bancari in Abruzzo soprattutto nelle aree interne. I sindacati lanciano l'alarme e terrano un convegno all'Aquila. Si terrà domani all'Aquila un convegno delle principali sigle sindacali per denunciare la desertificazione degli sportelli bancari soprattutto nelle zone interne della nostra regione. Nelle 2010 le filiali bancari operanti in Abruzzo erano 701 in 171 comuni. I dati di oggi evidenziano una realtà molto differente con 429 filiali in 126 comuni prevalentemente posizionati sulla zona costiera. Il fenomeno in forte progressione e le banche denunciano i sindacati concentreranno i piani industriali su ulteriori razionalizzazioni. Domani faremo questa tavola rotonda. Gli invitati alla tavola rotonda sono tutti quanti i sindaci della regione Abruzzo perché vogliamo in qualche modo sollecitare il loro interesse e il loro intervento per far sì che questo fenomeno in qualche modo venga arginato. È un fenomeno che è nato ormai da una decina d'anni cioè da quando praticamente tutte le banche locali cioè le ex casse di risparmio in sostanza hanno perso la loro autonomia e sono state incolbate dai grossi istituti di credito. Attualmente vediamo che tutte quante le grosse banche stanno, come dire, loro dicono razionalizzando la rete degli sportelli. Questo significa in sostanza che gli sportelli nelle zone interne e nei piccoli paesi perdono la loro autonomia spesso vengono anche chiusi. E questo comporta, accanto alla chiusura dello sportello, a cascata anche la chiusura di tante altre attività commerciali, imprenditoriali che sono nel comune. Proponiamo un osservatorio degli accadimenti per convincere la politica e quindi la regione Abruzzo ad aprire un tavolo con le singole banche che prima delle chiusure, perché queste cose le sanno prima, possono in qualche modo comunicare le volontà e vedere quali sono in generale i loro processi riorganizzativi ed avere un quadro completo e complessivo per capire come si può convincere una banca a rimanere su un territorio e non lasciare singoli sindaci, perché sta accadendo questo, che chiedono il favore alle singole banche di poter lasciare un banco mattiloco o poter fare qualche, di avere la possibilità di avere una filiale anche con pochi colleghi. Chiediamo un intervento regionale, non a caso questa tavola rotonda la si svolge proprio nella sede tipica della regione Abruzzo affinché siano coinvolti tutti gli operatori di questo settore ma non solo, tutte le parti sociali, tutti gli operatori economici anche affinché si ponga rimedio a questa situazione. Si studi una soluzione condivisa, buona, per risolvere le varie esigenze fermo restando che le decisioni a questo punto sono già state tutte prese quindi sicuramente non si tornerà indietro ma bisogna trovare una modalità per armonizzare e per diminuire per quanto possibile questi disagi. Il sindacato degli infermieri in Ursi da causa dell'affolamento nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara e in alcuni reparti chiede all'Asl di aumentare i posti letto nei presidi ospedalieri di popoli e pene per decongestionare il santo spirito. Ascoltiamo. Il sindacato degli infermieri in Ursi di Pescara denuncia criticità relative alla situazione del pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo adriatico. L'elevato afflusso di pazienti, dice il sindacato, risulta infatti insostenibile in quanto gli spazi sono inadeguati per il numero dei pazienti da trattare ed è impossibile rispettare le distanze di sicurezza. Il pronto soccorso non riesce più a fare il suo lavoro cioè quello di dare risposte rapide a richieste dei cittadini in quanto si è trasformato, dice il nursing, in un reparto multidisciplinare che non fa più solo accertamenti e prestazioni di emergenza urgenza. Vista la carenza di posti letto nei reparti del presidio ospedaliero di Pescara dove spiega il sindacato mediamente e giornalmente stazionano 70-90 pazienti, si chiede il potenziamento dei posti letto presso gli ospedali di Popoli e Penne per poter trasferire i pazienti che non riescono a trovare posto all'ospedale Spirito Santo. Adesso che si avvicinano le state ci sarà un grande aumento di afflusso al pronto soccorso e quindi la permanenza nel pronto soccorso di Pescara aumenterà di molto le ore praticamente. I tempi di attesa tra l'entrata e l'uscita possono passare anche diversi giorni e questo provoca naturalmente il ritardo anche nell'erogare prestazioni. Il pronto soccorso dovrebbe erogare prestazioni immediate, brevi non permanenza all'interno del pronto soccorso dovrebbe essere stabilizzati e inviati ai reparti il problema è che nei reparti non ci sono i posti letto questo è dovuto al fatto che da anni praticamente hanno ridotto i posti letto nei presidi più piccoli hanno riduzione dei servizi. Una problematica questa che rischia di accentuarsi nel periodo estivo quando notoriamente gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara aumentano ancora? Sì, aumentano ancora anche perché verso l'estate si va incontro più a incidenti stradali quindi incidenti in moto i pazienti arrivano anche da fuori asli di competenza nostra quindi da Chieti, da Basso Chieti quindi da Vasto, San Salvo e all'interno ma il problema principale del pronto soccorso attualmente è quello dell'ingorgo dei pazienti che non riusciamo a ricoverare nei reparti e quindi c'è oltre a svolgere il pronto soccorso svolge oltre attività di emergenza urgenza svolge anche attività di reparto quindi pazienti e quindi assistenza ai pazienti che rimangono da noi per giorni Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che pochi giorni fa si era incatenato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara è tornato a manifestare al fianco di alcuni cittadini anche loro incatenati per denunciare una situazione definita dallo stesso Pettinari Al grido di vergogna Vergogna protesta questa mattina di alcuni cittadini che si sono incatenati dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara al fianco del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari per manifestare contro le condizioni del presidio di pronto soccorso dell'ospedale cittadino Sì perché è una situazione infernare pronto soccorso scoppia ogni giorno ricevo centinaia di telefonate di persone che non ce la fanno più persone parcheggiate da tre giorni in attesa in pronto soccorso tre giorni d'attesa voi potete immaginare perché tutto questo mancano i medici mancano almeno dieci medici in pronto soccorso io ringrazio il personale medico infermieristico e operatori sociosanitari perché non la è la colpa loro è la colpa di una programmazione politica errata e sbagliata della sanità servirebbero nuovi medici quindi incentivi per il personale medico personale sanitario in pronto soccorso utilizzare l'istituto del precetto ma soprattutto non depotenziare più gli ospedali minori hanno soppresso qualche giorno fa un reparto la UOS di anestesia dell'ospedale di Penne se si depotenziano gli ospedali minori Penne e Popoli e si depotenzia la medicina territoriale inevitabilmente i cittadini ad imbuto entrano tutti nel pronto soccorso di Pescara nell'ospedale di Pescara che scoppia e non ce la fa più quindi è una programmazione sanitaria errata siccome la sanità gli ospedali dipendono dalla regione e la regione purtroppo non comando io non governo io i cittadini non hanno messo a me a governare io sto in opposizione non ho potere decisionale ci sono loro quindi chiediamo le dimissioni del presidente della regione dell'assessore regionale della sanità perché evidentemente a mio avviso non stanno facendo bene il loro lavoro quindi una critica politica fortissima nei confronti loro mi auguro che ci ascolteranno e faranno presto perché i cittadini non ce lo fanno più i cittadini non hanno nascosto la loro preoccupazione e la loro indignazione noi vogliamo la dignità del cittadino vogliamo la tutela della sanità pubblica quindi vogliamo più interesse pubblico verso noi cittadini siamo stufi di questi disservizi che abbiamo siamo stufi vogliamo delle risposte concrete da Marsilio siamo stufi il problema è questo che tutti hanno sottovalutato che adesso le regioni ricche hanno una sanità e una scuola di serie A le regioni più povere hanno una sanità e una scuola di serie B e di serie C dal 2035 stoppa la vendita di auto a benzina e diesel con lo scopo di abbattere le emissioni di anidrite carbonica questo però avrebbe una ricaduta su tantissimi posti di lavoro anche nella nostra regione ascoltiamo tagliare del 55% le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 questo è l'impegno del Parlamento Europeo che ha dato l'ok allo stop alla vendita di auto a benzina diesel e GPL dal 2035 una scelta che andrebbe ad incidere pesantemente sulla manovalanza impiegata negli stabilimenti produttivi a rischio in tutta Italia infatti ci sarebbero 70.000 posti di lavoro nell'industria automotive legata alla produzione di componenti che non serviranno per l'elettrico ricadute negative sono previste anche per la nostra regione in difficoltà ormai dal 2021 ma sull'automotive già ci sono segnali di rallentamento piuttosto significativi a partire dal 2021 e probabilmente questo primo trimestre del 2022 i cui dati saranno pubblicati credo in giornata da parte dell'Istat segneranno io credo un ulteriore problema per quanto riguarda questo settore che io considero il settore fondamentale dell'economia abruzzese perché tutti i dati che noi abbiamo a disposizione segnalano un automotive che è addirittura al quarto posto come incidenza sul totale a livello nazionale dopo le grandi regioni Piemonte Emilia Lombardia c'è una cultura manufatturiera significativa che sostanzialmente ha prodotto una crescita direi fondamentale per questa regione a questo punto il discorso diventa molto più complesso perché siamo in una situazione di instabilità siamo in una fase di aumento notevole delle materie prime siamo al di là delle materie energetiche e soprattutto siamo in una fase inflazionistica e i segnali che provengono anche dalla Banca Centrale Europea sono quelli di un aumento dei tassi di interesse il che potrebbe avere ripercussioni sul progetto diciamo così di rilancio della nostra economia dopo la pandemia e all'interno di questo grande avvenimento che è il conflitto tra Russia e Ucraina Tornerà in mare la prossima settimana la marineria pescarese questa è la decisione emersa dopo i numerosi incontri avuti a livello nazionale i problemi però restano tutti sul tavolo la marineria pescarese una delle ultime a restare a terra in queste ultime ore dalla prossima settimana tornerà in mare seppur solo inizialmente per alcuni giorni dopo ore di riflessione si è deciso così di interrompere il lungo sciopero per il caro gasolio i problemi come spiega Fabrizio Verzulli presidente dell'associazione Il Maestrale restano però tutti sul tavolo e tutti irrisolti i problemi restano ancora sul tavolo per me sono ancora aumentati i problemi perché due volte che buttiamo la spugna qua torniamo di nuovo in mare con i prezzi di gasoli che sono tornati a salire ancora di più non so dove andremo a finire comunque Non c'era unità di vedute nei giorni scorsi sul fatto di riuscire in mare c'è chi era d'accordo e chi contrario Sì infatti non c'è unità chi vuole uscire chi vuole restare a terra e continuare lo sciopero però queste sono tutte piccole aziende giustamente ognuno di loro hanno le loro problematiche insomma il costo del gasolio non solo resta è aumentato quindi signori qua se torniamo di nuovo in mare stiamo facendo uno sbaglio enorme perché facciamo capire a tutti che praticamente il problema non è mai esistito abbiamo fatto lo sciopero per niente insomma abbiamo perso solo tempo andando girando l'Italia a bloccare barche e facendo sì che aderivano insieme a noi a tutto lo sciopero Il presidente dell'associazione armatori di Pescara Francesco Scordella rilancia ancora una volta l'idea del fermo biologico anticipato per una categoria sempre più in ginocchio Noi ci siamo comportati degnamente tutti quanti quindi non abbiamo fatto ostruzionismo in città e abbiamo come si dice rotto le scatole a qualcuno che andava a lavorare per bloccare come si fa di solito quando c'è una manifestazione il rammarico mio è che le istituzioni purtroppo non ci hanno dato una risposta tuttora fra un mese e mezzo c'è il fermo biologico veniamo da una pandemia è una situazione talmente drammatica io capisco che tutte le aziende stanno col fiato sospeso perché sono fatto del ringare energetico ma noi viviamo di quello il gasolio per noi è come il sangue per un essere umano a queste condizioni qua veramente non sappiamo più cosa fare non abbiamo le risposte col senatore D'Alfonso oggi c'è una riunione in videoconferenza con le altre cariche dello Stato quindi si è adoperato per far fronte a questa situazione speriamo che io oggi chiedevo a gran voce visto che stiamo fermi in questo modo senza fare niente vi faccio scontare un fermo biologico che secondo me era una soluzione non era la migliore però invece di stare fermi in questa situazione così senza avere niente scontavamo questo fermo biologico e poi fra i 50 giorni capaci che le cose potevano cambiare il governo aveva il tempo per fare tutto quello che doveva fare dei provvedimenti ma se stiamo fermi così e fra un mese e mezzo sia il fermo biologico altri 50 giorni queste sono aziende che non si rialzeranno più avremo importazione estera e quindi stiamo favoreggiando il mercato estero e questa è la risposta che stiamo aspettando da questo governo ma ho poca fiducia perché veramente è brutto dirlo ma ci hanno preso in giro perché troppo tempo senza risposta adesso cambiamo pagina e parliamo di sport ancora pochi giorni e si conoscerà il nuovo allenatore del Pescara in pole position Zdenek Zeman che tornerebbe per la terza volta in riva all'Adriatico una scelta che nel caso sarà destinata a far discutere vediamo prosegue il conto alla rovescia che porterà la definizione dello staff tecnico del Pescara e prima ancora l'ingresso dei nuovi imprenditori nella compagine sociale a metà della prossima settimana c'è la deadline fissata dal presidente Daniele Sebastiani e l'attesa principale è quella della scelta dell'allenatore visto che per la figura di direttore sportivo Daniele Dellicarri è già all'opera in attesa dell'annuncio ufficiale oramai non ci sono dubbi che il prescelto per la panchina sia Zdenek Zeman tutto sta nella volontà del boemo di dire sì alla proposta di Dellicarri solo in caso di no si virerebbe su altri profili il principale è quello di Alberto Colombo che dopo l'ottima stagione a Monopoli vorrebbe una chance in una piazza di prestigio quale Pescara mentre si assottigliano le speranze di una B Ascoli e Cosenza sembrano guardare altrove ed ora è accostato alla Carrarese Zeman artefice della splendida promozione in Anne nel 2012 poi le cose sono andate male nella stagione 17-18 che però aveva premesse diverse il Pescara retrocesso dalla A si portava dietro contratti onerosi ed una rosa abnorme con cui era difficile lavorare quel Pescara non entusiasmava ma furono le frizioni che il tempo non sembra aver lenito del tutto con Sebastiani a portare all'esonero anche se poi le cose peggiorarono con la promozione di Epifani e solo l'avvento del normalizzatore Pillon evitò il patatrack finale fermi restando i dubbi avanzati nei giorni scorsi e che lo stesso allenatore potrebbe e dovrebbe valutare Zeman d'altro canto potrebbe essere attratto dal fatto che su questa rosa invece ci sono margini di manovra ben più ampi tra giocatori via per fine prestito quelli a scadenza e alcuni bebbi che saranno ceduti per alimentare il budget Sorrentino e Veroli in particolare l'organico andrà in buona parte ricostituito puntando sui giovani a tal proposito valutazioni andranno fatte su quelli del Pescara Chiarella e Blanuta potranno avere ancora più spazio così come delle monache che potrebbe essere ceduto ma comunque resterà in prestito in biancazzurro e quelli che rientrano dai prestiti Gennaro Borrelli Nicolás Belloni Milos Bocic più o meno funzionali al gioco di Zeman rientrerà anche un signor come Michael De Marchi e anche in questo caso si verificherà l'adattabilità al progetto tecnico Dopo la nomina di Massimo Chierchia ad amministratore unico del club in casa Teramo sono iniziate le manovre per concretizzare un progetto che dovrà attuare anche Davide Ciaccia e che possa portare all'iscrizione ne ha parlato il sindaco di Teramo Gian Guido Dalberto sottolineando che ora ognuno dovrà fare la propria parte ascoltiamo Ieri si è messo un punto fermo si è dato quindi si è individuato il soggetto coagulatore utilizziamo questo termine delle risorse da individuare da mettere a disposizione dell'iscrizione stiamo lavorando tutti tutti ciascuno per il proprio ruolo assolutamente per il raggiungimento di questo di questo obiettivo che deve essere l'iscrizione della squadra della nostra squadra in serie C il passo di ieri ripeto è un'opportunità per aprire una nuova fase che come giustamente ricordava lei è una fase che deve avere una durata non limitata o ristretta ma assolutamente brevissima nel senso proprio in termini temporali perché la scadenza dell'iscrizione costituisce un termine che si avvicina sempre di più quindi andiamo ciascuno faccia la sua parte questo è molto molto importante si senta responsabile di questa fase di questo momento iscriviamo la squadra e poi ne apriremo un'altra di fase nella quale appunto costruiremo e definiremo il futuro della Teramo Calci in un momento così difficile con le vicissitudini che abbiamo vissuto ma con una salvezza che abbiamo conquistato sul campo lei sta cercando per quanto comunque competa il suo ruolo la sua possibilità di accentrare delle forze nuove intorno al Teramo ma è un'attività che ho fatto che possono essere fin dall'inizio non senza difficoltà insomma un momento non semplicissimo lo ho fatto con i commissari con i componenti appunto con gli organi del tribunale continuerò a farlo in questi in questi giorni con una con un filo di speranza sicuramente più forte più solido ma che dobbiamo alimentare nelle prossime nelle prossime ore quindi l'appello insomma che continuiamo a fare da tempo lo dobbiamo ribadire il traguardo è più vicino rispetto rispetto a prima quindi lo sforzo è anche anche minore facciamo ciascuno la propria parte quindi è più ottimista rispetto a qualche giorno fa io come ho detto qualche giorno fa più si avvicina la scadenza e più l'ottimismo diciamo così si riduce però sicuramente il passaggio di ieri quanto meno ha diciamo così delineato una strada ha individuato degli interlocutori che in questo momento hanno il pallino in mano con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buona domenica grazie a tutti Grazie a tutti